ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo in uno spot nuovo mare un po mosso e anche un po torbido ho visto veramente pochi pesci in questa uscita cercherò un pesce in particolare il mohara blanco che è un pesce da fritto partiamo subito qui siamo intorno ai metri vado giù vado con i segnali e vedo arrivare un branco di mohara cerco di minare quello più grande anche se questo pesce non sopra una pezzatura di massimo un chilo il centro perfetto e prima cattura mi sposto agilmente a sinistra sempre al solito posto ma vedo veramente arrivare poco provo a fare molti segnali struscio di continuo e ne vedo arrivare uno questo è un po lontano ma provo il tiro nonostante un tiro a distanza tiro preciso e centro a trazione vedo arrivare una palometa la seguo con il fucile sapendo comunque di non spararle perché sono in cerca di mohara spero arrivi qualche altra cosa ma niente ne vedo un paio in lontananza ma sono troppo lontani quindi rinuncio e non sparo mentre mi sposto invece ne vedo qui uno fermo immobile ne approfitto e sparo centro trovo un posto dove posso ancorarmi mi sembra abbastanza buono vado giù trovo quei richiami vedo arrivare delle palomete che comunque non mi interessano continuano a girare ma di solito queste portano con sé un bel po di pesci non è questo il caso perché non c'è veramente nulla oggi c'è pochissimo pesce questa è una bella azione mi fermo giù faccio diversi richiami e al certo punto ne vedo arrivare due aspetto il momento giusto e via la mia prima coppiola sono concentrato la prima volta per me quindi aspetto il momento giusto come vedete l'attesa è lunga aspetto che si sovrappongono e al momento giusto scocco il tiro è un centro perfetto che se sovrappongono e al certo proprio Grazie a tutti. Ormai sono già due ore che sono in acqua e inizio a sentire un po' la stanchezza, ho raggiunto comunque il mio obiettivo, ho un bel carniere, ho dei pesci da fritto come volevo, però provo l'ultimo tuffo e mi va bene perché arriva un bel caranghetto, è da porzione. Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video, se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi e noi ci vediamo nel prossimo, come sempre buon mare.